Flavia Vento è tornata a parlare di una questione che da ormai mesi e mesi sta tenendo banco, il divorzio tra Francesco Totti e Hilary Blasi. Il tema è tornato alla ribalta grazie alla pubblicazione di Unica, il docufilm di Netflix in cui la conduttrice Medisette ripercorre la sua storia con l'ormai ex marito e parla apertamente di come è arrivata la crisi e del tradimento con Noemi. Hilary Blasi durante l'intervista si è aperta totalmente sulla sua vita e senza alcuna estrazione ammesso che non si sarebbe mai aspettata la fine del suo matrimonio, dal quale sono nati tre figli, Christian, Chanel e Isabel. Dopo la pubblicazione del docufilm, Hilary Blasi si è concessa anche in un'intervista esclusiva rilasciata all'amica e collega Silvia Toffanin. A verissismo, Hilary Blasi è torna sulla frase che c'è nel film e che aveva pronunciato proprio a verissimo il 20 marzo 2022, nel pieno della tempesta mediatica che aveva appena travolto lei e Francesco Totti. Sono venuta qui davanti a tutti e ho dato delle mera asterisco asterisco alla stampa e ai giornalisti. Ho difeso quella che io pensavo fosse la verità ma, evidentemente, i giornali ne avevano un'altra di verità, che poi era quella giusta. Ma io non lo sapevo, ha confessato la conduttrice. Ho reagito così perché avevo una versione di verità. Chiedo scusa alla stampa. Ho creduto a mio marito, come ho sempre fatto. Quando ho scoperto la verità ho preso un'altra direzione, ha detto ancora. Una svolta arrivata dopo aver scoperto della storia del marito con Noemi Bocchi. In passato Hilary Blasi è stata al centro del gossip per alcune presunte scappatelle del marito, in particolare quella con Flavia Vecchi.